Signore e signori questa sarà una serata fashion direi e lo potete vedere dall'abbigliamento insomma dallo stile di queste ragazze ma di lei soprattutto la nostra protagonista come ti chiami? Linda Linda da dove vieni? Bergamo Bergamo molto bene dici un po' cosa festeggi stasera a parte il lancio della tua linea di occhiali che troveremo, dirlo un po' tu, dirlo dove lo troveremo che tu sei l'ideatrice giusto che ne fai pubblicità allora lo troverete in tutti i migliori negozi della città il colore ovviamente sono tutti su rosa molto bene tutto rosa e niente spero che piaccia però però non è e lo diciamo qui davanti a tutti non è una linea solo per donne anche se il colore è rosa esatto esatto può essere preso anche per l'uomo assolutamente non facciamo nessun tipo di distinzione molto bene molto bene oltre a fare il lancio della tua linea di occhiali personalizzata festeggi qualcos'altro questa sera? esatto festeggio che a maggio mi sposo a maggio si sposa molto bene con chi? con Daniele Daniele? Di dove è lui? Anche lui di Bergamo? è lui di Bergamo e è a casa lui oggi è a casa e sei contenta che sia a casa? sì va bene vuoi dirgli qualcosa? Vuoi mandargli un messaggio? ci vediamo domani ci vediamo domani tutto bene fino a qui tutto bene anche se ancora presto sono appena appena dopo le nove quindi c'è tempo per perché la situazione cambi speriamo di no intanto stiamo inquadrando anche le tue amiche colleghe e sorelle sorelle, cugine un po' di tutto un po' di tutto bene bene allora tu sei pronta per questa serata? assolutamente di divertirmi bene allora sei nel posto giusto un saluto e mi raccomando comprate questi bellissimi occhiali da domani in tutti i migliori negozi d'Italia esatto hanno un nome? hanno un nome la linea? la linda si sposa la linea si sposa bello mi piace mi piace una ragazza con grandi idee molto originale ci piace ti piace allora vai un bel saluto e poi ti concediamo ciao a tutti ciao vi aspetto ciao ciao ciao